In natura tutto si evolve, ora sta il maschio! Ciao Enzo! Usciamo dal giurassico, affidatemelo! Non mi piace come va vestito quando va al lavoro, è un disastro! Esiste quello... Rusticus, egocentricus E persino... L'homo sbarbatellus Ma tra le mani di un esperto non c'è tipologia di uomo che possa sfuggire all'eleganza del maschio Una nuova serie, da lunedì 13 maggio alle 14.30 su Real Time Grazie a tutti!